La settima giornata di campionato nel girone C di Serie B sorride alle tre terramane che escono trionfatrici da altrettante sfide difficilissime. A cominciare da Letomilu Giulianova che dopo aver violato il campo di Ortona ha espugnato con il punteggio di 60-67 il parquet di Recanati, raccogliendo la seconda vittoria in trasferta in soli quattro giorni. Un successo per gli uomini di coach Tisato che vanno a consolidare il secondo posto dietro solo alla corazzata Sansevero. Sugli scudi Antonello Riccio è l'ottimo bastone. Nel prossimo turno i giallorossi se la vedranno proprio con i pugliesi ma sul parquet amico alla pala Castrum e sognare non è impossibile. Stesso discorso per Campli che è salita al terzo posto dopo la vittoria all'overtime sul forte Sant'Elpidio. Per gli uomini di Millina il quarto successo stagionale con il play Burini sugli scudi l'ex giocatore di Val di Ceppo ha chiuso come MVP con 15 punti di score. Ottima prova corale comunque per i farnesi che danno sempre intensità alla gara e la trasferta di domenica in Puglia a Nardò certamente non è delle più proibitive. Anche il Teramo viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Dopo la sconfitta nel derby casalingo contro Pescara serviva una reazione e la reazione c'è stata, espugnando con pieno merito il palasassi di Matera al termine di un match condotto dall'inizio alla fine. I ragazzi di coach Piero Bianchi hanno giocato una partita di carattere con cuore, testa ed attributi mettendo in risalto tutti i limiti dei Lucani e controllando il ritmo sin dall'inizio. I biancorossi dovranno mettere gli stessi attributi domenica al Palasca per affrontare nell'ottavo turno una delle big del torneo, la quotata a Bisceglie che finora però non ha espresso i propri reali valori in campo. I biancorossi dovranno mettere gli stessi attributi domenica al Palasca per affrontare gli stessi attributi domenica al Palasca.